SDM News, il primo TG degli sport outdoor di montagna, a cura di Maurizio Torri Ben ritrovati con SDM News, il primo TG degli sport outdoor di montagna anche questa settimana, una puntata tutta da correre Today Puke entra nella storia di Zegama Domenica, in una delle mecchie dello skyrunning, è tornato a svettare il tricolore dopo 11 anni dal successo di Mario Poletti e 6 da quello con record ancora imbattuto di Emanuele Abrizio il friulano del Team Crazy Day at Day Puke ha messo tutti dietro e inciso il proprio nome nell'albo d'oro di questa durissima superclassica lui primo davanti a tutti nella torsita di Zegama al termine di 42 km e 2472 metri di slivello positivo il gigante buono torna quindi a stupire, anzi stupisce pure se stesso battendo Kylian Jornet e primeggiando su una starting list di assoluto livello dove spiccavano i nomi di Ionu Zinca, Marco De Gasperi, Ariza Egea, Torbion Ludwiksen, Zaita Idmalek, Michel Lann e Riccardo Meia dopo una prima parte condizionata dalla fuga della coppia Egea-Zinca la gara si è decisa sull'ultima salita qui nel gruppetto di testa con Kylian Jornet e Manuel Meriglias il campione friulano ha provato a gettare il cuore oltre l'ostacolo azzardando una discesa a rotta di collo, 9 km a tutta con il terrore di essere ripreso agli ultimi 200 metri si è voltato e ha capito che il sogno stava per diventare realtà confermandosi talento da grandi classiche, Manuel Meriglias ha conquistato la seconda piazza davanti a Pere Rullan, Ariza Egea, Marco De Gasperi, Jesse Ternandez, Michel Lann, Zait Malek, Yonu Zinca, Haith, Chao Hassan Parata di stelle anche al femminile con Elisa Desco, Emily Fosberg, Oiana Cortazara, Maite Maiora, Laura Orghe, Mira Rai e la debuttante Federica Boifava difficile, difficilissimo anche qui azzardare un pronostico al termine di una prova davvero combattuta da segnalare il ritorno sul podio di Oiana Cortazara proprio dove aveva lasciato prima della maternità per la stella del team Salomon, grande secondo posto alle spalle di Azara Garzia e davanti a Paola Cabrerizzo in casa Italia, degno di nota, il quinto posto della debuttante Federica Boifava giunta alle spalle di Emily Fosberg, quarta e davanti a Elisa Desco, sesta Trofeo Nasego, in Val Sabbia, prima indicazioni per i selezionatori azzurri della squadra italiana di Corsa in Montagna pronostici rispettati alcune sorprese, con Isaac Kiprop, l'ugandese trionfatore nel settembre scorso a casette di massa a dettare il tempo agli azzurri della Corsa in Montagna l'attesa per la risposta del campione europeo Bernardo Matteis è svanita verso metà gara laddove diventava evidente che la presunta iniziale prudenza del cuneese era invece rappresentata da una delle più classiche giornate no è toccato allora al resto del gruppo provare a rifarsi sotto mentre Kiprop, Atletica Valle Brembana, davanti continuava a spingere verso il decimo chilometro uscivano lo scoperto Alex Baldaccini del GS Eurobie e Luca Cagnati, Valle Bergamasche mentre il suo compagno di club Alessandro Rambaldini, Emanuele Manzi, Forestale Francesco Puppi, Valle Brembana e Massimo Mei, Atletica Castello seguivano in gruppo a qualche decina di secondi allo scollinamento del rifugio Nasego, dopo 17 chilometri di gara decisamente nervosa Baldaccini ha ridotto il gap su Kiprop ma la discesa finale non gli ha permesso di fare meglio dopo un'ora 31.03, l'ugandese ha chiuso a braccia alzate con Baldaccini, ottimo secondo, a due primi e 22 secondi mentre l'altro azzurro, Cagnati, chiudeva terzo a 3.41 dietro molti dei pretendenti ai mondiali lunghe distanze a cominciare dall'ottimo Alessandro Rambaldini, quarto Emanuele Manzi, quinto a seguire troviamo Martin De Matteis, Francesco Puppi Bernardo De Matteis, Massimo Mei e decimo Gert Frick anche nella prova femminile, corsa sulla stessa distanza di 20.800 metri è stata un'atleta africana a prendere il volo nelle prime battute meno fortunata però la fuga della keniana Diana Cherono ripresa a 6 chilometri dal traguardo la testa della corsa passava nelle mani di Francesca Iachemet dell'Atletica Trento che nel tratto finale confermava la sua ottima condizione per la Trentina, già azzurra in Colorado nel 2014 e vittoria netta in un'ora 54-54 alle sue spalle, bella sorpresa di giornata la lombarda Gloria Giudici, Atletica Rovellasca coglieva la seconda posizione in 2.01.57 precedendo a sua volta la Cherono, crollata nel finale e terza al traguardo in 2.07.34 tra le migliori di giornata anche Monica Ponchafer, Ana Nanu e Angela Serena K-Race, ennesimo successo per il team Valtellina del presidente Vitale Tacchini Vittoria 3 al maschile, Alice Gaggi da record nella gara in rosa è primato presenze con più 100 rispetto al 2014 meglio di così non poteva andare la terza edizione della Kermesse ondrese andata in scena domenica mattina proposta dal team Valtellina in collaborazione con le guide alpine della Val di Mello la manifestazione non federale della Val Masino, a ricordo di Stefani Frigeri e Pietro Biasini ha ottenuto il pieno di consensi non federale, ma nel gruppo di testa è stata gara vera con Mirko Bertolini, Giovanni Tacchini e Francesco della Torre che si sono messi subito davanti a dettare i tempi e il resto della ciurma con il passare dei chilometri, il già vincitore di questa gara Stefano Sanzi ha però dimostrato di trovarsi a proprio agio su questo veloce e muscolare tracciato che tocca i punti più belli della riserva della Val di Mello e di Bagni Masino per lui e per il compagno di club nelle file del team Valtellina Marco Leoni una bella rimonta che gli hanno permesso di riacciuffare il talentuoso runner premanese Mattio Gianola visto il carattere non agonistico dell'evento i tre hanno tagliato insieme il traguardo di San Martino passando sotto la finish line in un'ora 11.20 quarto posto per Mirko Bertolini che nell'ordine ha messo dietro Francesco della Torre Cristian Pizzatti, Giovanni Tacchini, Guido Rovedatti, Roberto Volpi e Alessandro Bonesi altra storia nella gara in rosa dove i riflettori erano puntati sulla super sfida azzurra tra l'ex iridata Alice Gaggi e la sua compagna di nazionale nelle file della squadra di corse in montagna Elisa Sortini la prima ha però imposto la legge della più forte vincendo la gara e facendo segnare anche il nuovo record della gara per lei diciassettesima piazza assoluta e crono di un'ora 18.45 ottimo regalo di compleanno con seconda piazza e miglioramento cronometrico rispetto al 2014 per Sortini al traguardo in un'ora 22.08 terza piazza per il neo acquisto del Santi Nuovo Logno Lorenza Combi nel post race ecco le impressioni a caldo di Alice Gaggi la capa race è andata bene è stata una bella giornata di sport correre in scenari come quelli della Val di Mello e della foresta dei bagni di Masino è sempre bellissimo tutt'al più oggi con una bella giornata di sole ci tenevo particolarmente ad esserci a questa gara a correre in memoria di Steph e Pietro due ragazzi che amavano la montagna e quindi credo che ricordarli con una corsa sia un bel modo appunto di portare avanti la loro memoria la mia stagione di corsa in montagna è iniziata con alti e bassi nel senso che è partita con la valtellina vertical tube dove ho faticato visto che tribulo sempre un po' sulle gare più dure e con le pendenze maggiori soprattutto in quel caso dove c'erano anche i gradini poi ho partecipato ad altre gare che sono andate più bene come ad esempio la vertical della Tassvulcania oppure alla K-Race adesso i miei obiettivi futuri sono quelli di partecipare alle F, alle gare del campionato italiano di corse in montagna e di fare bene Parata di stelle questo fine settimana alla 30 Passi Sky Race domenica si aprirà ufficialmente a Marone in riva al Lago di Seo il circuito La Sportiva Mountain Running Cup in programma la 30 Passi Sky Race giunta alla quinta edizione e la terza edizione del Vertical Race il Vertical sarà valido come prima prova dello Sky Runner Italian Series dal punto di vista tecnico la Kermess Bresciana si sviluppa su un percorso di 17,5 km con 1.400 m di dislivello positivo mille dei quali concentrati su 3 km di sviluppo e 1.400 m di dislivello negativo la 30 Passi Vertical Race invece si sviluppa per 3,5 km su 1.000 m di dislivello positivo in pochi minuti dalla riva del lago si raggiungono i 1.200 m della cima correndo lungo la strapiombante e mozzafiato cresta della 30 Passi come nelle passate edizioni il sabato pomeriggio sarà dedicato ai giovani con la mini Sky Race per i ragazzi alla sera presentazioni dei top runner sfogliando la lista partenti sulla Vertical spiccono i nomi di Urban Zemmer Marco Moletto, Davide Galizzi, Remy Bonnet Fabio Bazzana, Davide Magnini Francesca Rossi, Emmy Colling Samantha Galassi, Antonella Confortola Stefani Gimenez e Giulia Compagnoni sulla Sky super sfida tra Ionu Zinkat e Dave Puk con ruolo di outsider affidato a Paolo Bert Giorgi Slabotz, Michele Tavernaro e Greg Vollet al femminile invece sfida valetudo tra Denisa Dragomir, Emanuele Abrizio e Deborah Cardone con le valtellinesi Elisa Sortini e Raffaella Rossi come da programma domenica mattina si entrerà nel vivo della competizione con la partenza alle 9.15 della Vertical Race dopo circa un'ora dalle sponde del lago prenderà il via la quinta edizione della 30 Passi da ricordare che durante le premiazioni ci sarà l'estrazione di numerosi premi in paglio tra i quali due iscrizioni per la Dolomites Vertical Crepa Negra di Canazzei e due iscrizioni per la Sky Race del Monte Bianco Anche per questa puntata è davvero tutto in gara fate come Taday Puk sognate, osate e non mollate mai!